Il punto di vista della produzione Ovviamente trattandosi di un low budget movie La prima cosa che abbiamo fatto è quella proprio di capire I capi reparti, chi fossero Ovviamente diventa una sorta di viaggio vero e proprio Un po' come quello che fanno i nostri protagonisti del film Ho chiesto se era possibile unire anche a Tonight un esperimento del genere Quindi chiedere all'Oied se era interessato ad essere nostro partner E da lì poi è nato tutto il discorso con i ragazzi che sono venuti sul set Per noi è stata un'esperienza molto bella Perché poi appunto il film è un film giovane La troupe è composta essenzialmente da ragazzi giovani Per cui ci sembrava naturale per noi chiedere il supporto E l'aiuto di un istituto come l'Oied E di avere dei ragazzi che veramente portassero anche del loro nel film E di avere dei ragazzi che Ron Cristo 시 Questo Flowers è un'occhio E ci sembrava allenare Offenservazione Sonata Associ sta